Vittorio riporta Vittorio riporta Vittorio riporta Vittorio riporta Vittorio riporta Vittorio riporta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Gabriele Oh ciao Come stai? Tutto bene? Sì bene Ci sono i ragazzi in finale Sì in finale Buon calupo Già È normale che sia a piedi lungo? Grazie a tutti. 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 No, guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.